Il nostro vermentino, il Toscano di Val Virginio, è prodotto solo con uve vermentino, da vitigno a bacca bianca. Una varietà che trova la sua massima espressione sulle nostre dolci colline toscane. Le uve sono raccolte a mano, nel loro giusto momento di maturazione, e poi pigiate e lasciate fermentare in purezza a basse temperature. E' così che si ottiene questo vino bianco di carattere, fruttato da note aromatiche di pesca gialla, dall'ottima struttura e dalla grande morbidezza.